Allora, ciao Gabriella, fine giornata con Gabriella Baccelli, ricordo 23 titoli italiani, campionessa. Allora Gabriella, è stata veramente una bella giornata. Intanto i complimenti nostri come voce dei laziali e come laziali soprattutto. Grazie ragazzi. Sarà bello avervi qua e sarebbe bello avere tutte le sezioni, quindi 12 eravamo alla fine oggi. Ci chiedevamo con Massimo qualora fare un domani un evento per tutte e oltre 70 sezioni, servirebbe qualche centinaio di ettari di terreno? Servirebbe sì. Dico che stiamo lavorando, stiamo lavorando su un bando del comune, speriamo di vincerla e a quel punto avremo ettari da mettere a disposizione per le sezioni della Lazio, anche per creare una sorta di casa polisportiva Lazio. Non sarebbe male, è una cosa che ero bambino io e sentivo parlare di queste cose. Immagina che tu vai a giocare a calcio a 8 e ti trovi lì con occhi sul prato, ti trovi lì con padel, ti trovi lì con tennis, diventi una squadra. Io perché l'ho vissuta e ho avuto la fortuna di viverla, ma l'emozione delle Olimpiadi, cioè dei giochi olimpici, quando sei in un villaggio con tutte le altre sport che fanno parte di quella competizione. Quindi se ti trovi anche in questo caso in una società sportiva, che è la Lazio, e ti trovi con tutte le altre discipline sportive, sarebbe il massimo. Ricordiamo quanti atleti vanta la polisportiva, le sezioni della polisportiva? Le sezioni sono 72. Gli atleti sono... Oltre 10.000? Io so. Erano oltre 10.000 sui conti dell'anno scorso, presumo che si siano aumentati e presumo che quest'anno con tutte le attività che stiamo facendo e la visibilità che stiamo cercando di dare sia a livello sportivo sia a livello di nome, che aumenteranno ancora di più. Questo è l'obiettivo. Ti aspettavi una bella giornata, non solo a livello atmosferico, ma... Mi aspettavo una bella giornata perché stavo sul meteo, appunto. No, ma la bella giornata, nel senso, una risposta così importante anche al di là della riuscita dell'evento, ma anche di tanta gente che è intervenuta. Me l'aspettavo perché ci sto lavorando da maggio. Ci sto lavorando insieme a... Vorrei menzionare i loro nomi, il presidente della Lazio Equestrio che è Arturo Casucelli e con il direttore degli eventi che mi ha dato una grossa mano veramente grande, Aurelio Perna. Sono stati due punti di riferimento. Mi sono fidata tantissimo, tantissimo a loro e quindi ero più che sicura che sarebbe riuscita. L'unico incognito, ovviamente, come sempre, è il tempo. Quello anche... Uno sa che il matrimonio sarà bello, ma non si sa mai se pioverà o meno. Poi, gli ultimi giorni, ovviamente, è attaccato al meteo, visto che sarebbe stato... Anzi, è stato talmente bello oggi che a un certo punto, nelle ore più calde della giornata, si è annuvolata e quindi non abbiamo avuto neanche tanto caldo. Adesso c'è una rietta freschissima, bellissima. Bellissima. Non ci posso credere che siamo al centro di Roma, questo no. Siamo in un posto bellissimo. Abbiamo fatto capire ai bambini che si può giocare, si può stare... Non voglio sminuire giochi telematici o video, eccetera. Però, guarda, queste bambine qua. Che vero. Vedere alle sette e mezza di sera bambine che ancora corrono sui prati... Sì, sì, è sintetica, però è spazio aperto, è libertà ed è bellissimo. I ragazzi piace, c'è niente da fare, non vogliono vedere la televisione se ha a disposizione tutto questo spazio. Ha detto bene il capo dell'ufficio dello sport, della presidenza del Consiglio, Michele Sciscioli, che ci dovrebbero essere più di queste iniziative, anche senza il sostegno economico del governo. Quindi, se veramente riuscissimo a fare, ad avere una casa nostra, lo potremmo fare più spesso, perché a quel punto ci mettiamo tutti quanti insieme e promuoviamo sia le nostre sezioni, ma sia lo sport e l'inclusione sociale. Non so se avete... Sì, sicuramente avete avuto modo di vedere quello che stava facendo il presidente del Lazio Basket in carrozzina, Moreno Paci, ha messo a disposizione le sedie a rotelle e i bambini volevano giocare, perché volevano giocare. Dicevano, no, no, anch'io voglio fare... Cioè, i normodotati che possono camminare l'hanno vista come un gioco e non come pietà, no? Poverino, c'è qualcosa che... No, anzi, voglio fare anch'io questo. Ed è bellissimo. Sia per i ragazzi che sono in una sedia a rotelle, sia per i normodotati. È stato uno scambio bellissimo, è stato uno dei sport che è andato per la migliore oggi. Uno dice, magari non posso fare troppa attività fisica, sono andati anche lì al cinofile, senza dover correre o fare uno sprint o necessariamente ho troppi movimenti drastici col corpo, ha imparato a giocare con il cane, con il proprio cane e dei trucchi che può utilizzare poi quando torna a casa. Sono state delle attività proprio speciali, tutte le sezioni, tutti i loro presidenti, tutti i loro atleti sono stati speciali perché sono stati disponibili, hanno aiutato a capire come si praticava il proprio sport. Gabriella, l'ultima, l'ultimissima, mi lanci due parole alle famiglie. Fate sport, fate fare attività ai vostri figli. Se avete qualche dubbio su dove possono andare per fare un qualsiasi sport, noi ne abbiamo 72, sicuramente abbiamo lo sport che fa per voi. Lo possiamo dire questo. Se mi dite voglio fare tiro con l'arco, pensa un po' e ce l'abbiamo. Sì, sì. Quindi chiamateci. Grazie, Gabriella. Sì. Gabriella, una domanda e un ringraziamento da parte mia perché invitandoci in questa location, in questo posto meraviglioso che io non conoscevo e penso che molti non conoscevano, abbiamo vissuto dei momenti di sport legati sempre alla nostra Lazio ma a momenti veri di sport. I bambini che ancora adesso ci accompagnano sul palco e tutti quelli che hanno partecipato ai giochi, devo essere sincero, veramente commuove. Grazie ancora, Gabriella. Grazie a voi di essere venuti, grazie per aver seguito. Grazie, Gabriella. A presto.